Individuati gli aggressori del 27enne ritrovato in una pozza di sangue in pieno centro ad Arezzo la sera del 16 giugno. Ci sarebbe una questione di gelosia. Alla base dell'aggressione, ad inchiodare i responsabili, sono stati gli agenti della squadra mobile di Arezzo guidati dal neo dirigente Sergio Leo. La vittima dell'aggressione, un 27enne di origini campane, residente ad Arezzo, era stato colpito più volte alla testa e al collo con una bottiglia di vetro usata come fendente. L'uomo è stato ritrovato sotto il portico di piazza Sai Jacopo e portato in ospedale e stato dimesso con 25 giorni di prognosi. Secondo la ricostruzione effettuata dalle forze dell'ordine, tutto è iniziato con una lite con un uomo di origini marocchine. Il 27enne sarebbe stato poi aggredito prima in piazza Sant'Agostino con calci e pugni da più persone e poi scappato nella zona di piazza Sai Jacopo aggredito da due persone. A sferrare i colpi alla testa e al collo con la bottiglia di vetro sarebbe stato un 25enne di origini marocchine, mentre un altro 19enne di origini tunisine lo avrebbe ferito alle braccia con un'arma da taglio. Poi i due sono fuggiti. Le indagini della squadra mobile hanno permesso di rintracciarli nel giro di poche ore e sono stati denunciati per il reato di lesioni personali aggravate. Per quanto riguarda invece piazza Sant'Agostino è stato individuato un uomo di origini palestinesi indagato per il reato di lesioni personali aggravate dal fatto che l'aggressione sia stata commessa in gruppo. Sono in corso ulteriori approfondimenti per cercare di identificare gli altri responsabili. Nessun collegamento a dei fatti con le manifestazioni in corso in città per la giostra del Saracino.